E' scaduto ieri l'ultimatum dato dal vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli all'INFN e a strada dei parchi per presentare un progetto di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Nel frattempo da parte della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso arriva un nuovo esposto alla procura di Teramo sulla sicurezza del sistema, prodotto anche grazie all'accesso agli atti effettuato nei mesi scorsi. I documenti acquisiti dalle associazioni ambientaliste, migliaia e migliaia di pagine, associazioni che hanno acceso i riflettori sulla pericolosità degli esperimenti realizzati nei laboratori sotto il Gran Sasso ormai da mesi sono condensati in una quindicina di pagine che pongono alcune nuove questioni sul tavolo. Intanto c'è un rischio sismico molto importante, addirittura c'è una faglia attiva e capace che passa dentro i laboratori e nel passato geologico queste faglie si sono mostre anche di metri. Quindi non c'è solo il problema che gli apparati sperimentali sono stati progettati per reggere solo lo scuotimento ma non il movimento proprio del terreno. Bisognava fare la microzonazione sismica di terzo livello e imporre delle fasce intorno a queste faglie di rispetto e questo non l'abbiamo trovato. Poi c'è un aspetto dell'esperimento LunaMV, vogliono mettere un acceleratore di particelle dentro i laboratori, vogliono fare un bunker per schermare le radiazioni con 80 cm di pareti, con 80 cm di spessore di cemento armato, questo fa capire anche il potenziale impatto. Questo però è vietato dalla legge perché è una macchina radiogena che non può stare vicino ai punti di captazione. Infine abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni perché lì siamo in un parco nazionale, le valutazioni di incidenze ambientali dei diversi esperimenti e anche i permessi edilizi. Nei comuni di Isola del Gran Sasso e l'Aquila e nel Parco del Gran Sasso non abbiamo trovato nulla o meglio ci hanno risposto che loro non hanno nulla. Il perché di tante mancanze anche burocratiche dovrà essere accertato da parte della magistratura, ma per la mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso resta primaria ed urgente, al di là di tutto, la messa in sicurezza dei laboratori e la conseguente salvaguardia dell'acqua che bevono migliaia di cittadini abruzzesi. Per questo sabato prossimo a Pescara, davanti alla sede della regione in Viale Bovio, ci sarà una manifestazione con un sit-in di protesta. Per chiedere il varo della carta di perimetrazione delle aree di salvaguardia per l'acqua potabile, cioè dove si devono mettere dei vincoli per salvare la nostra acqua che beviamo tutti i giorni, e per far allontanare le sostanze chimiche pericolose perché non ci può essere messa in sicurezza se non si passa almeno dall'allontanamento delle sostanze pericolose che costituiscono il pericolo più grande per l'acqua di 700.000 persone.